Ben ritrovati con Starbene in TV, edizione del mattino, trasmissione in collaborazione con l'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. Sono in compagnia del dottor Riccardo Tomins, che è il direttore del servizio di igiene e prevenzione dell'azienda. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, dottore, parliamo questa mattina in particolare di prevenzione in termini quindi di vaccinazione, in termini anche di gestione un po' delle epidemie che vi siete trovati a dover affrontare come struttura dell'azienda sanitaria. Vorrei capire un po' a che punto siamo anche con la campagna dei vaccini antifluenzale, che magari quest'anno si è inserita in un momento, dal punto di vista, se vogliamo, anche mediatico particolare per quanto riguarda tutte le polemiche derivate dall'obbligo delle vaccinazioni per andare a scuola, per i bambini e in generale sulle posizioni espresse da più parti, chi pro, chi contro l'utilizzo di questo strumento appunto per prevenire guai peggiori attraverso malattie che in alcuni casi si pensava addirittura anche debellate sul nostro territorio che invece abbiamo visto, per fortuna, con casi non tanto frequenti, anche ricomparire. Sì, senz'altro è cominciata la campagna antifluenzale come per tutti gli anni e esiste un sistema di monitoraggio, di sorveglianza sanitaria che serve proprio per capire come siamo, a che punto siamo, no? Perché il virus dell'influenza è un virus un po' capriccioso, cambia ogni anno, quindi cambia ogni anno la sua tuta mimetica, bisogna preparare il vaccino giusto per quell'anno e soprattutto cambia ogni anno il momento in cui decide di fare, di rompere sulla sua scena, di fare il suo ingresso in scena. Per questo motivo esistono dei sistemi di sorveglianza fra cui il più importante è quello che consta dei medici sentinella, cioè abbiamo su tutto il territorio nazionale un certo numero di medici i quali quando vedono delle situazioni che vengono chiamate simil-influenzali, perché per fare la diagnosi esatta bisogna fare anche un preghievo di sangue, notificano, segnalano questo caso. Allora fino adesso sono stati segnalati pochi casi e quindi abbiamo un'incidenza, cioè un numero di nuovi casi per mille assistiti che è di 1,58. Cosa significa questo numero? Significa che siamo al di sotto della soglia epidemica, non è ancora cominciata l'epidemia di influenza, del virus dell'influenza. Quindi abbiamo tempo per pensare alla vaccinazione. Stiamo attenti, questi qua sono dati nazionali e restano a questo momento dati nazionali perché c'è sempre un certo ritardo nelle segnalazioni e il numero di medici segnalatori non è enorme. In Fruglia, Venezia e Giulia ne abbiamo soltanto 21, a Trieste ne abbiamo soltanto 3, per cui adesso dire sì ma quanti casi sono stati segnalati in regione o addirittura a Trieste sarebbe un attimino fuorviante. Diciamo che siamo ancora al di sotto della soglia epidemica. Quindi non possiamo parlare allora, come dice lei, di un'epidemia influenzale che è scontato che si manifesti o magari anche le condizioni del clima, perché bene o male il virus esiste sempre, siamo noi come esseri umani, con il nostro fisico a un certo punto essere indeboliti dalle varie situazioni in primis, appunto dalle malattie magari dal raffreddamento eccetera e quindi diventiamo più sensibili, più vulnerabili, mi correggo ovviamente se sto dicendo qualche bestialità, a essere aggrediti dal virus e quindi a manifestare le conseguenti patologie. Ma come per tutte le malattie infettive noi dobbiamo considerare da un lato la cattiveria del virus, cioè la capacità che ha il virus, in questo caso un virus, non potrebbe essere un battere o un altro microorganismo, di fare del male, quanto è cattivo. Dall'altro lato dobbiamo considerare quella che è la forza di resistenza, la capacità di resistenza dell'ospite, dell'uomo in questo caso. Quindi ben diverso è il decorso della malattia a parità di cattiveria del virus, nel giovane adulto sano oppure nella persona pur adulta ma con patologie o nell'anziano soprattutto se con alcune patologie. I problemi di salute che rendono più grave, che possono rendere più grave la malattia influenzale sono sempre quelli, ormai penso che siano ben noti, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie, malattie metaboliche come il diabete o l'obesità anche. Queste sono le situazioni più importanti che richiedono soprattutto la vaccinazione. L'anno scorso c'è stato un importante eccesso di mortalità durante i mesi invernali, dal momento che l'inverno non è stato particolarmente duro, rigido, ecco che con ogni probabilità buona parte di questo eccesso di mortalità va ascritto all'epidemia di influenza. Ora lei mi chiede se come potrà essere l'epidemia quest'anno ci sarà, non ci sarà e non è facile fare queste previsioni. Non è facile, ci si basa essenzialmente su quello che è l'andamento nell'emisfero meridionale dove è in anticipo l'epidemia rispetto a noi e ci si basa per questo anche per capire quanto sarà valido il vaccino anti-influenzale che noi utilizziamo. Ecco, a questo proposito io posso già dire una cosa. Per questa stagione la nostra azienda ha ritenuto opportuno acquistare un nuovo vaccino anti-influenzale, un vaccino tetravalente, non trivalente, ovvero sia un vaccino con una marcia in più, un vaccino che copre contro 4 ceppi di virus dell'influenza e non contro 3. La spesa per l'acquisto del vaccino è stata più che raddoppiata, quindi è stato un impegno notevole dal punto di vista economico per l'azienda sanitaria, ma ormai le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sono molto forti in questa direzione. Noi abbiamo fatto una ricerca proprio sulla letteratura scientifica e abbiamo così convinto la nostra direzione ad aumentare la spesa sanitaria ritenendola un giusto investimento. Si spende di più in vaccino, ma questo dovrebbe farci risparmiare tanto di più in termini di ricoveri di spesa sanitaria nel suo complesso. Certo, ma quindi diciamo così le aziende farmaceutiche prese anche nel loro complesso ovviamente sono in qualche maniera egoisticamente per noi avvantaggiate nel fatto che queste epidemie, questo virus nuovo e questi nuovi virus che si susseguono anno dopo anno si manifestino prima per ragioni veramente biologiche, climatiche, eccetera, nell'emisfero meridionale della Terra perché così hanno il tempo di fare lo studio, preparare il vaccino e averlo pronto quando qui da noi inizia a manifestarsi il problema, perché altrimenti al momento in cui viene isolato il virus, vengono fatte le procedure chimiche, biologiche, nei laboratori di ricerca viene messo appunto il vaccino, i tempi potrebbero non essere coerenti con la necessità poi di iniziare a somministrarlo. E purtroppo le cose non stanno proprio così, perché i tempi per la preparazione del vaccino sono comunque abbastanza lunghi, quindi quando il vaccino è ormai pronto, o perlomeno quando sono pronte le linee di produzione, non è ancora cominciata l'ondata influenzale nell'emisfero meridionale. Quindi questa ondata influenzale, questo anticipo di epidemia a noi serve essenzialmente e soprattutto, e non è poco, per capire quale sarà la cattiveria del virus, quindi per avere una stima del potenziale impatto che avrà l'epidemia influenzale e per capire quanto buono sarà il vaccino che andremo a utilizzare nel corso dell'anno. Quindi questo è il vantaggio che abbiamo nel partire un po' più tardi rispetto all'emisfero meridionale. Dopodiché abbiamo tutte le analisi delle serie storiche delle epidemie avvenute in Italia e andiamo da epidemie molto precoci, verificatesi già a novembre, ad epidemie piuttosto tardive che si sono verificate a febbraio addirittura. Quindi mediando un attimino il tutto diciamo che il momento buono per vaccinarsi va senz'altro fino alla fine di dicembre, dopodiché ancora gennaio se l'epidemia è in coda, ecco è tardiva, ma senz'altro tutto novembre e tutto dicembre sono il periodo buono per vaccinarsi. Certo. Esiste eventualmente la necessità di fare un richiamo cosiddetto se magari l'epidemia si manifesta più tardi rispetto a una previsione che può essere fatta e quindi uno in via preventiva è andato a vaccinarsi, che so, già subito a fine estate, ma in realtà poi l'apice della malattia, della diffusione arriva appena a gennaio o febbraio. Il vaccino è ancora... Allora, il vaccino ha una durata di sei, otto mesi diciamo come durata e ci va bene, ci va bene perché è un vaccino che cambia ogni anno, quindi ogni anno va fatta una nuova dose, che non è un richiamo nel senso stretto del termine, è un nuovo vaccino perché cambia il pattern, la configurazione antigenica del virus e quindi anche del vaccino. Dopodiché proprio per considerazione di tipo epidemiologico la campagna vaccinale inizia di solito a fine ottobre, quindi se consideriamo i mesi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ci stiamo assolutamente dentro, non sono prevedibili assolutamente dosi di richiamo. Come anche non sono da prevedere, non sono da fare dosi di richiamo per l'altro vaccino che viene offerto attivamente e gratuitamente assieme all'antinfluenzale che è il vaccino contro l'opneumococco. Questo è un vaccino che va fatto una volta nella vita, assolutamente basta uno, tranne casi particolari di persone con malattie molto gravi nei quali vanno fatte due dosi di vaccino ma in realtà sono due vaccini diversi, un pneumococco di un tipo e l'altro pneumococco di un altro tipo. Ma queste qua sono cose che vengono gestite direttamente dai curanti, vuoi medici di medicina generale o vuoi in buona parte anche i medici ospedalieri, specialmente la pneumologia è un nostro prezioso alleato in questo lavoro. Certo, ecco per poter accedere alla vaccinazione è necessaria comunque la prescrizione del medico di base, medico di famiglia come vogliamo chiamarla o uno può presentarsi direttamente e dire buongiorno vorrei essere vaccinato a conto? Allora per queste vaccinazioni ormai da anni noi ci valiamo della collaborazione dei medici di medicina generale e in maniera molto limitata anche dei pediatri di libera scelta. Dico in maniera molto limitata perché sono molto pochi i bambini che necessitano della vaccinazione anti-influenzale e quindi storicamente a Trieste queste vaccinazioni nei bambini sono fatte direttamente dai distretti. Quindi se la persona di 65 anni di età o più o la persona anche più giovane ma diabetico, cardiopatico, bronchitico, cronico e desidera farsi vaccinare va dal suo medico di medicina generale e il suo medico come ogni anno lo vaccina. I vaccini sono distribuiti tramite il circuito delle farmacie e quindi sono a disposizione dei colleghi nei loro ambulatori. Certo, quindi viene ingerito come una normale, cioè non è un'iniezione? È un'iniezione, viene fatta nella spalla e al momento abbiamo già distribuito più dell'80% di quello che è il fabbisogno stimato e i dati che abbiamo di registrazione ci dicono che sono state somministrate oltre 10.000 dosi di vaccino anti-influenzale. Attenzione, sono state registrate quindi con ogni vero similianza le vaccinazioni effettivamente somministrate sono molto di più ma esiste sempre un certo ritardo fra il momento in cui il collega fa l'iniezione e il momento in cui poi effettivamente registra il tutto in computer. Anche perché facendo la differenza fra le dosi distribuite e quelle effettivamente registrate ne abbiamo oltre 10.000 e mi sembra strano che abbiamo 10.000 dosi di vaccino nei frigoriferi dei singoli medici. Certo, ecco lei prima faceva accenno al forte impegno economico che l'azienda ha dovuto sostenere per acquisire il vaccino e dal punto di vista del paziente c'è un ticket da pagare o è totalmente gratuito? Assolutamente no. Esiste una circolare ministeriale che poi praticamente viene ricopiata ogni anno con poche novità. Esiste poi quello che c'è scritto nel piano nazionale e nel piano regionale di prevenzione vaccinale per cui la vaccinazione anti-influenzale viene offerta attivamente e gratuitamente alle persone a partire, tutti i residenti a partire dai 65 anni di età e alle persone con alcune patologie. Inoltre viene offerto attivamente e gratuitamente alle forze di polizia e a servizi di prima necessità come i vigili del fuoco. Certo, ecco, proprio con riferimento anche alle categorie di persone. Prima lei ha citato alcuni tipi di pazienti, di persone con determinate patologie per le quali è molto consigliabile fare la vaccinazione, ma in generale persone invece che godono di buona salute o anche più giovani capire, uno, se esiste una fascia d'età dalla quale in poi si può prendere il vaccino o in realtà magari invece è controindicato. Due, se la vaccinazione diventa una mia scelta per evitare magari assenze sul lavoro o comunque problematiche legate a dover rimanere a casa, a letto per X giorni e quindi è una mia scelta ma che non ha ricadute strettamente salutistiche, ecco, cioè al limite mi faccio la mia influenza, rischio di stare a casa una settimana ma non ho poi conseguenze pratiche da altri punti di vista. Allora, il discorso non è tanto tanto semplice. Innanzitutto praticamente non esistono controindicazioni per il vaccino anti-influenzale. A meno che uno non abbia avuto una grave reazione allergica a una dose precedente, non ci sono controindicazioni. Il vaccino che abbiamo acquistato quest'anno, il tetravalente, non è stato ancora testato nel bambino piccolo, quindi ecco che se noi abbiamo bambini sotto i tre anni di vita, a questi bambini andiamo a somministrare il vaccino trivalente, quindi un vaccino che è un pelino meno coprente, perché ci manca uno dei quattro ceppi di virus dell'influenza, ma è il vaccino che possiamo fare in questa fascia di età. Dopodiché il discorso di chi può essere vaccinato e di chi va vaccinato. Allora, la vaccinazione è una misura di sanità pubblica. Io mi vaccino per non ammalare me stesso, per non ammalarmi, ecco, ma mi vaccino anche per non ammalare chi mi sta attorno. Allora, vediamo il bambino piccolo, non può ricevere il vaccino tetravalente, riceve un vaccino meno coprente, meno potente. È opportuno che i genitori, chi li sta attorno, sia vaccinato per evitare di ammalarsi e di trasmettere la malattia al bambino. Questo è il motivo per cui io, dottor Riccardo Tomins, medico, gli assistenti sanitari che lavorano con me, i medici di medicina generale, il personale sanitario dell'ospedale e non solo il personale sanitario, non è obbligato alla vaccinazione, non esiste un obbligo di legge, è moralmente tenuto a vaccinarsi, è semplicemente un obbligo morale. Perché se io mi ammalo di influenza, pur non essendo un giovane adulto sano, vabbè, con ogni verosimilianza è difficile che avrò una malattia grave. Non è escluso, ma è difficile. Ma pensare che io mi ammalo e magari sto poco bene, ma vado a lavorare lo stesso perché siamo in pochi, devo aiutare, devo fare, sento la mia mission di medico, devo andare a lavorare. E passo l'influenza alla persona fragile che in questa maniera si ammala e magari muore, perché l'influenza si muore banalmente, si muore, allora forse qualche piccolo problemino di coscienza dopo potrei averlo. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Quindi è bene allora approfittare di questa disponibilità e quindi di fare la vaccinazione, appunto, e abbiamo sentito attraverso il proprio medico di base affrontare questo percorso banale, semplice, un'iniezione nella spalla e via. Bene, grazie dottor Riccardo Tomins per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito, vi auguro un buon prossimo momento di giornata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.